E' stata una meditazione su parole catechesi del Vescovo Lambiasi ad aprire ieri in Sala Manzoni il convegno diocesano dei catechisti. Don Guido Benzi, sacerdote riminese, direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale, ha poi presentato i nodi salienti del rinnovamento della catechesi che presto si tradurranno in un documento della Commissione per la Dottrina della Fede. Il primo nodo riguarda mettere davvero come realtà primaria la catechesi degli adulti e l'annuncio, il primo annuncio della fede. Il secondo nodo è una pastorale veramente biblica, il Papa lo chiede in modo esplicito nella Evangelii Gaudium che la parola di Dio innervi tutti i processi di comunicazione della fede. Il terzo nodo riguarda l'iniziazione cristiana, cioè tener conto che una pastorale di iniziazione non è soltanto una pastorale che deve alimentare dal punto di vista intellettuale ma è anche una pastorale che deve aiutare le persone a crescere nella vita della comunità. E il quarto nodo è la figura del catechista, la sua formazione e forse in Italia può essere maturo il tempo in cui il catechista diventa un ministero. Per i catechisti un'occasione di formazione per affrontare al meglio le sfide che il loro impegno pastorale presenta. Molte volte mi accorgo di dovermi abbassare proprio a questi bambini, di doverli ascoltare sempre con maggiore attenzione. I problemi sono tanti, la società, la famiglia che continua a disgregarsi. Secondo me l'impegno del catechista è una vocazione. Noi cerchiamo di aiutare anche queste famiglie nel nostro piccolo entrando veramente in punta di piedi nelle famiglie.